L'auto di Alberto Ugo Begatti, l'uomo di 31 anni, di origine cilena, ricercato per l'omicidio del padre adottivo Guido, trovato senza vita nel suo appartamento in corso 22 marzo a Milano, è stata trovata a poca distanza dall'argine del fiume di Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona. Gli investigatori della squadra mobile stanno intensificando le ricerche perché ogni possibilità è aperta, compresa quella del gesto estremo, ipotesi dovuta al contenuto della lettera lasciata davanti alla porta dell'abitazione in cui è stato sigillato il cadavere del padre e per un precedente tentativo risalente a quando aveva 17 anni. Il cadavere del 69enne Guido Begatti era in camera da letto in una stanza sigillata con il silicone per evitare che la puzza potesse invadere il resto della casa e arrivare al pianerottolo. Il movente però è ancora tutto da chiarire, il corpo del pensionato è stato trovato alle 10 di ieri dopo che un veterinario aveva segnalato alla polizia di aver ricevuto un'email dal 31enne in cui si chiedeva di andare a casa sua e di prendersi cura del suo cagnolino. Il corpo dell'anziano era avvolto dalle coperte e aveva una cintura attorno al collo, motivo per cui si pensa a uno strangolamento. Sarà l'autopsia a chiarire la causa del decesso. Nel frattempo emergono altri dettagli legati alla vicenda. Il 31enne, infatti, potrebbe aver continuato a vivere nell'appartamento in cui giaceva il corpo del padre, ucciso 15 giorni prima. Il giovane, disoccupato, è stato infatti visto un paio di giorni fa nei pressi del palazzo da alcuni vicini di casa. La madre era morta un paio di mesi fa. La stanza dell'appartamento in cui è stato ritrovato il corpo del 69enne era sigillata col silicone. Il 34enne, ieri mattina, avrebbe inviato un'email al veterinario del suo cane, chiedendogli anche di andare davanti a casa sua, sollevare lo zerbino e prendere una busta. La busta, da quanto si è saputo, conteneva una lettera non firmata in cui si chiedeva al veterinario di occuparsi del cane e le chiavi di casa dell'appartamento. Il veterinario, però, non è entrato, ma ha deciso di chiamare la polizia. Il veterinario, però, non è entrato, ma ha deciso di chiamare la polizia. Grazie a tutti.